Pochi giorni prima di Capodanno vi ho chiesto quali fossero i vostri buoni propositi per il 2022 e molti di voi mi hanno risposto smettere di procrastinare. Ho già parlato di questo tema in passato sul mio canale ma voglio provare a fare un ulteriore video per cercare di sia rinnovare un po' il mio pensiero, sia cercare di darvi anche qualche spunto in più. Mi raccomando ricordatevi di iscrivervi al canale, se avete Amazon Prime di iscrivervi anche a Twitch e se volete sostenermi anche con Patreon mi fate un grande favore. Trovate tutte le info in descrizione al video. Cosa significa procrastinare? Sostanzialmente significa rimandare qualcosa che dobbiamo fare a un momento successivo. Ci sono persone che tendono a rimandare in continuazione, in modo cronico, senza mai poi riuscire a fare quella cosa che si sono preposti di fare. E questo tipo di comportamento può essere dovuto a molteplici fattori ma ha sicuramente come base fondante una carenza di motivazione che può essere data dalla natura della motivazione stessa o può essere in qualche modo disincentivata da dei pensieri disfunzionali che abbiamo generato nel corso della nostra esistenza. Dunque per capire come evitare di procrastinare dobbiamo partire necessariamente da comprendere cosa sia la motivazione e per farlo partirei anche da un piccolo e rapido inquadramento teorico. In letteratura le motivazioni vengono spesso divise in due categorie, le motivazioni primarie e secondarie, nonché le motivazioni intrinseche ed estrinseche. Le motivazioni primarie sono quelle generate da istinti biologici come può essere per esempio mangiare o dormire, mentre le motivazioni secondarie sono quelle invece che sono legate ad aspetti più sociali, relazionali, di realizzazione personale e di successo. Le motivazioni possono essere appunto anche intrinseche o estrinseche. Si dicono motivazioni intrinseche quelle motivazioni che ci spingono a fare un'azione, un comportamento, semplicemente per il piacere di farlo. Ovvero non c'è nessuna punizione o beneficio esterno che ci viene dato per fare quel tipo di azione. La facciamo perché la desideriamo, la desideriamo appunto intrinsecamente, per il semplice piacere di farla. Le motivazioni estrinseche invece sono quelle motivazioni che sono dettate appunto da elementi esterni, per cui facciamo una determinata azione non tanto perché ci piace l'azione in sé, ma perché siamo motivati da una paura oppure dal raggiungimento di un beneficio. I bisogni e di conseguenza le motivazioni sono gerarchiche, sono quindi basate prima sui bisogni primari e solo successivamente sui bisogni secondari, per cui per esempio secondo l'ormai famosa piramide di Maslow i bisogni appunto ci si presentano in maniera prioritaria, con priorità diverse e appunto quelli primari sono i primi che dobbiamo soddisfare. Una volta soddisfatti quelli alla base della piramide andremo a soddisfare quelli immediatamente successivi e così via, fino alla punta della piramide che rappresenta i bisogni di autorealizzazione, che sono anche quelli più astratti, quelli più difficili da ottenere attraverso degli aspetti materiali. La teoria di Maslow però non deve essere interpretata in modo rigido, anche perché abbiamo tante evidenze di come a volte alcuni bisogni psicologici di ordine superiore vadano poi a inficiare anche il soddisfacimento di bisogni primari. Pensiamo per esempio a una persona anoressica che smette di mangiare rischiando anche appunto la denutrizione pur di rientrare in alcuni canoni sociali estetici. Oppure l'ikikomori che isolandosi nella propria stanza non fa altro che autocastrare la propria libertà personale. Quindi è chiaro che a volte anche i bisogni primari passano in secondo piano di fronte a delle ossessioni, a delle paure, delle fobie e in generale a delle problematiche di natura psicologica. Per quanto riguarda invece il filone comportamentista, la motivazione dipende sostanzialmente da dei fattori di rinforzo. Quindi se noi facciamo qualcosa che viene premiato con appunto un beneficio allora noi saremo portati a mettere in campo con più motivazione quell'azione anche in futuro. Seppur anche questa teoria sia assolutamente vera e dimostrata è comunque incompleta e non è in grado di spiegare in modo complesso come funzionano le motivazioni dell'essere umano. Secondo un altro autore, ovvero Mac Clelland, le motivazioni dell'essere umano possono essere distinte sostanzialmente in tre macro-categorie. Le motivazioni di affiliazione, che sono sostanzialmente le motivazioni di tipo sociale, quindi di creare dei legami sociali soddisfacenti. Le motivazioni di successo, quindi il raggiungimento di obiettivi di vita che ci possono dare soddisfazione personale. E le motivazioni di potere, quindi il fatto di raggiungere uno status che ci garantisca un certo tipo di grado di potere sulle altre persone. La motivazione può essere anche misurata cercando di comprendere il nostro grado di capacità di posporre il piacere. Come ne ho parlato per esempio in un vecchio video in cui andavo a illustrare anche il famoso esperimento del marshmallow, ovvero il fatto che dei bambini sono stati posti di fronte a una scelta, il fatto di mangiare subito un marshmallow, oppure attendere il ritorno dello sperimentatore e averne due. Quindi se un bambino fosse riuscito a resistere all'istinto, avrebbe potuto mangiare un singolo marshmallow, ma se fosse riuscito a resistere e ad aspettare il ritorno dello sperimentatore, a quel punto ne avrebbe ricevuti due, quindi avrebbe raddoppiato il proprio compenso. Bene, questo esperimento è stato riproposto nel tempo con tante variabili diverse, ma quello che è emerso da uno studio longitudinale, che quindi è stato portato avanti negli anni sui bambini che appunto sono stati sottoposti all'esperimento originale, è stato visto che i bambini che erano riusciti a posporre il piacere, quindi ad aspettare il ritorno dello sperimentatore e avere due marshmallow invece che uno, sono poi anche i bambini che sono riusciti a ottenere generalmente un maggiore successo scolastico e lavorativo. In una società come la nostra, quindi una società mediamente benestante, dove spesso i nostri bisogni primari sono talmente soddisfatti che li diamo per scontati, dove si sposta il nostro focus attentivo e quali sono le variabili che vanno poi a muovere le nostre azioni, quindi quali sono sostanzialmente le nostre fonti di motivazione? Beh, io credo, da quello che posso osservare, anche da quello che emerge dalla mia pratica clinica, che la maggior parte delle persone viene mossa sostanzialmente dalla paura, dalla paura del fallimento. E questo è un problema perché se molte delle cose che noi facciamo non hanno una motivazione intrinseca, quindi non le facciamo perché ci piace farle, ma le facciamo per una motivazione estrinseca, dettata non tanto dal raggiungimento di un qualcosa di positivo, ma dallo scappare da qualcosa di negativo, beh, allora vuol dire che queste motivazioni sono sicuramente motivazioni molto deboli che possono portare anche sul lungo termine a perdere la motivazione stessa, oppure allogorarci molto dal punto di vista psicofisico, fino a portarci magari ad avere un crollo nervoso o un burnout. Dunque, al netto di quelle che sono le motivazioni, se sono intrinseche, strinseche, se sono primarie o secondarie, ci possono essere degli schemi di pensiero, delle credenze, delle convinzioni psicologiche che abbiamo sviluppato nel corso della nostra esistenza, a partire anche dal modello educativo, a partire dalle esperienze dirette che abbiamo vissuto nella nostra vita, anche magari casualmente, che vanno a disincentivare appunto i nostri processi motivazionali, quindi che vanno in qualche modo a distruggere la nostra motivazione fino a renderci magari apatici. Secondo me, in particolare, nella società di oggi sono quattro e ve li vado ad illustrare partendo da delle citazioni che le persone che hanno questo tipo di pensieri dicono in modo ricorrente. La prima è Anche se mi sforzo, non cambierà mai nulla. E questa è una citazione che sottende un atteggiamento nei confronti della vita passivo. In psicologia verrebbe definito un locus of control esterno, ovvero non abbiamo la percezione di avere il controllo della nostra vita, non abbiamo la percezione che le nostre azioni, il nostro agito possa andare a migliorare la nostra situazione, ma che la nostra situazione sia negativa e che sia sostanzialmente dettata da fattori esterni al nostro controllo. Anche di questo ne ho parlato in alcuni video passati, in particolare l'ultimo, quello sui tre fattori chiave del benessere psicologico, e appunto questo, ovvero il fatto di sentirsi psicologicamente in grado di determinare gli eventi che ci riguardano, è uno dei fattori chiave per la nostra felicità. Se noi abbiamo la percezione che le cose ci capitino e che noi non possiamo fare nulla per evitarle, mai e in nessun caso, allora questo ovviamente ci comporterà quasi sempre uno scarso benessere psicologico e quindi tendenzialmente saremo tristi, depressi e pessimisti. Un'altra convinzione, un altro pensiero disfunzionale che va a ledere i nostri processi di motivazione è il pensiero che non abbiamo nessun talento, non sappiamo fare nulla e che quindi siamo sostanzialmente delle persone inutili. Ecco, molte persone oggi si considerano inutili, non hanno la percezione di avere alcuna utilità per gli altri, per la società e questo ovviamente è dettato spesso da una bassa autostima. Anche l'autostima ovviamente è un costrutto psicologico fondamentale per il proprio benessere psicologico ed è qualcosa che si plasma nel corso di tutta l'esistenza a partire da delle basi educative. L'unico modo per aumentare l'autostima è fare esperienza positiva di sé. Purtroppo questo è difficile perché una persona con bassa autostima farà fatica anche a mettersi in gioco e quindi a potersi dimostrare a se stesso di avere del valore. Oppure anche di fronte a delle dimostrazioni di valore comunque la bassa autostima va a far interpretare quelle dimostrazioni in modo pessimistico. Quindi in questo caso tenderemo ad attribuire gli aspetti negativi che ci capitano a fattori interni quindi a nostre responsabilità mentre tenderemo ad attribuire le cose positive che riusciamo a fare a fattori esterni quindi magari alla fortuna o al caso. Un altro pensiero molto disfunzionale e molto diffuso di cui ho già parlato in vari video precedenti è legato al pensiero che senso ha vivere se poi si muore. Questo pensiero è spesso legato a una depressione esistenziale di cui ho parlato approfonditamente appunto in video precedenti. Quindi io non riesco a dare un significato alle mie azioni perché non riesco a dare un significato più ampio all'esistenza. Quindi vivo come tutto vacuo come tutto assolutamente insignificante e cado in un pensiero nichilista per cui nulla ha senso e per cui non ha neanche senso sforzarsi di fare andare le cose bene. Questo tipo di problema è secondo me un problema molto diffuso e che si sta andando progressivamente a diffondere per i motivi che ho elencato nel video sulla depressione esistenziale. L'ultimo pensiero disfunzionale che va a minare la nostra motivazione è legato al discorso le cose o le faccio bene o non le faccio. Questo tipo di pensiero disfunzionale è ovviamente legato a un atteggiamento perfezionistico. È un atteggiamento che ha a che fare spesso con il disturbo ossessivo compulsivo e che spinge una persona ad essere ossessivamente portata a cercare di fare le cose secondo il suo punto di vista in modo perfetto. Dico secondo il suo punto di vista perché ovviamente la perfezione non esiste nella nostra dimensione e che quindi rimane una percezione personale. Spesso queste persone fanno cose molto importanti ma tendono appunto a vederle come imperfette e quindi le vivono in modo molto insoddisfacente non riescono a trarre beneficio o alcun tipo di beneficio da queste azioni e tenderanno anche e soprattutto a procrastinare perché appunto hanno la sensazione di non trovarsi nella situazione ideale psicofisica o ambientale per poter appunto produrre qualcosa di perfetto. Quindi rimando continuamente la scrittura della tesi perché ogni riga ogni parola della mia tesi deve essere perfetta e siccome non mi sento mai al 100% per poter scrivere la tesi non la scriverò mai. Questo ovviamente è un comportamento disfunzionale non solo dal punto di vista psicologico perché genera tanto stress e tanta frustrazione ma anche dal punto di vista pratico. Tutte le cose che hanno avuto successo nella vita sono sempre cose che sono iniziate lentamente sbagliando con un processo di apprendimento anche legato alle prove e all'errore. Quindi è impossibile iniziare qualcosa che non abbiamo mai fatto o di cui non siamo molto pratici facendola perfettamente. E anche questo è un meccanismo che vedo in molti andare a minare alla base quella che è la propria motivazione nell'agire. Se vi riconoscete in alcuni schemi di pensiero immagino che tutti più o meno vi riconosciate in almeno uno di questi potete sicuramente lavorarci da soli potete sicuramente migliorarvi per cercare di aumentare la vostra competenza e andare magari a appunto disinnescare questi pensieri disfunzionali oppure se vi rendete conto che non lo sapete fare o avete bisogno di una prospettiva diversa quindi avete bisogno di qualcuno che vada a mettere in discussione queste vostre credenze portandovi delle prove argomentando perché queste credenze siano sbagliate perché magari dal vostro punto di vista sembrano così vere e quindi fate molta fatica a metterle in discussione beh la soluzione come sempre è quella di chiedere aiuto a uno psicologo lo so che costa lo so che è un investimento che non tutti si possono permettere di fare ma purtroppo questa è la strada adesso anche per cercare di adempire a quanto scritto nel titolo cerchiamo di riassumere quelle che possono essere le buone pratiche per non procrastinare quindi per evitare di procrastinare le ho lasciate alla fine non tanto perché sono il nocciolo della questione ma anche perché sono quelle che sicuramente avrete sentito più spesso e che quindi probabilmente molti di voi già conosceranno ovviamente tra la teoria e la pratica ne passa sempre molto quindi è importante capire che per raggiungere queste competenze serve uno sforzo razionale che vada a lottare contro i nostri istinti che magari ci portano a non adempire a questi compiti quindi quando si parla di lavorare dal punto di vista psicologico si intende sempre contrastare degli istinti che noi abbiamo identificato come disfunzionali attraverso uno sforzo razionale che quindi ci costa fatica perché ci costa un esborso dal punto di vista psicofisico quali sono queste attività? in ordine creare una routine ovviamente avere una routine stabile ci aiuta a non procrastinare perché se siamo abituati a fare una cosa in una determinata fascia oraria saremo più portati a farla con facilità senza magari andare a tentoni e magari lasciare al caso le nostre attività formulate chiaramente i vostri obiettivi fondamentale se uno non sa formulare in modo chiaro e corretto i propri obiettivi difficilmente riuscirà a sviluppare una motivazione per perseguirli un'altra cosa importante è creare una priorità tra i propri obiettivi molto spesso abbiamo tantissime aree che dobbiamo migliorare non possiamo fare tutto non abbiamo abbastanza tempo ma soprattutto non abbiamo abbastanza risorse energetiche e quindi è fondamentale creare una priorità e concentrarci prioritariamente su alcuni obiettivi piuttosto che altri per esempio io in un periodo della mia vita non sapevo cosa volevo fare di lavoro non mi piaceva quello che facevo ero confuso e mi sono messo come priorità assoluta quella di diventare indipendente quindi quella di uscire di casa e cominciare a essere indipendente dalla mia famiglia ebbene darmi questa priorità ha messo in secondo piano tutto il resto anche il fatto che magari momentaneamente stessi facendo un lavoro che non mi piacesse non era importante perché in quel momento la mia priorità era guadagnare soldi per diventare indipendente al lavoro della mia vita quello che avrei fatto magari per tanti anni in modo più piacevole ci avrei pensato successivamente in quel momento la mia priorità era un'altra e quindi ho dedicato tutte le mie azioni tutti i miei sforzi in quella direzione questo mi ha aiutato molto perché mi ha anche pulito diciamo mentalmente quelli che erano i miei obiettivi e mi ha dato la possibilità di concentrarmi su una singola cosa su quell'obiettivo che io ritenevo avere il miglior impatto rapporto costi e benefici sulla mia vita in effetti è funzionato perché concentrandomi su quell'obiettivo sono riuscito a eliminare il rumore di altri obiettivi secondari che in realtà avevano uno scarso o un impatto nullo sulla mia vita e sono riuscito appunto a fare quello che effettivamente mi avrebbe aiutato di più in quel momento storico ovviamente la priorità tra i nostri obiettivi può cambiare nel corso della vita non possiamo avere sempre le stesse priorità o meglio è difficile certo forse la priorità unica e massima dovrebbe sempre essere il benessere psicologico però appunto al netto di questa macro priorità che secondo me fa da cappello a tutte le altre possiamo darci degli obiettivi più concreti che possono appunto cambiare di priorità nel corso della vita fissate degli obiettivi anche a breve termine perché va bene avere un obiettivo macro una stella polare verso cui indirezzarsi però è anche importante se si vuole evitare di procrastinare cercare di avere degli obiettivi quotidiani qualcosa che ogni giorno noi ci mettiamo come obiettivo da raggiungere un altro consiglio è quello di darvi delle ricompense al raggiungimento di questi obiettivi che vi siete prefissati vi date qualcosa per appunto premiarvi lo so tutto questo implica ovviamente un'autodisciplina di base ne sono assolutamente consapevole però credo che se riusciamo a innescare questo tipo di meccanismo ne potremmo trarre molto beneficio e l'ultimo consiglio che secondo me è uno di quelli più importanti riducete al minimo le fonti di distrazione ne ho parlato anche nel video sui videogiochi un video per certi versi controverso ma che vi invito a guardare prima di criticare io nella mia esperienza ho dovuto togliere i videogiochi per poter avere un qualche tipo di successo che sia stato gratificante con i videogiochi per come ero fatto io non riuscivo a perseguire i miei obiettivi perché venivo fagocitato da quel tipo di strumento e tutte le mie energie le mie risorse mentali e anche il mio tempo ma non solo venivano in qualche modo dedicati a quegli strumenti che sicuramente erano divertenti sicuramente mi intrattenevano mi aiutavano anche a non pensare ai miei problemi ma non mi aiutavano ad evolvere come persona e io facevo fatica spesso a riuscire a concentrarmi su quello che poi avrebbe avuto veramente un impatto positivo sul lungo termine dal punto di vista strutturale sulla mia vita in generale ovviamente dovete capire qual è la fonte di distrazione nella vostra vita che può andare di più a fagocitare le vostre energie e quindi a distogliervi non dal lavoro in generale ma da quelle cose appunto che possono avere un maggiore impatto sul vostro benessere psicologico come sempre vi ricordo se apprezzate i miei contenuti mi raccomando iscrivetevi e se volete parlarne ne parliamo spesso in live da lunedì al venerdì su Twitch dalle 22.30 a mezzanotte mi raccomando il link è in descrizione partecipato perché ogni sera siamo 100 150 200 persone che si trovano per discutere di vari temi temi tra cui c'è anche appunto l'autostima la motivazione personale la procrastinazione eccetera eccetera grazie ancora e a presto grazie a tutti